Buongiorno a tutti, oggi vorrei presentarvi le funzionalità dell'applicazione MinDomo MinDomo è il miglior strumento visivo multifunzionale per la presentazione di lezioni, di progetti o argomenti, attraverso la creazione di mappe collaborative, mappe concettuali e scalecce gerarchiche. E anche collaborando alla creazione di queste mappe, gli strumenti acquisiranno le abilità di discussione, di sintesi, di ricerca e di analisi. Innanzitutto questa è la schermata iniziale di MinDomo, come possiamo vedere qua sopra troviamo i prezzi che vedremo in dettaglio in seguito, la possibilità di cambiare lingua, iscrizione e l'accesso. Più in dettaglio volevo farvi vedere le cose distingue MinDomo dagli altri strumenti per la creazione di mappe mentali. MinDomo è più focalizzato per fornire la miglior soluzione per gli insegnanti e strumenti. Come? Intanto abbiamo la modalità di presentazione che consente agli studenti di trasformare le loro mappe in presentazioni in diapositive, rendendo più facile magari la presentazione e argomentare. Inoltre le applicazioni possono essere anche usate attraverso l'iPad o Android e si possono creare le mappe anche in modalità offline o online. inoltre si possono caricare immagini video o audio e i modelli delle mappe mentali sono già predefiniti oppure si possono creare come si desiderano. Ok, andiamo in specifico, si inizia. Per la registrazione si chiede il nome e il cognome, l'email e la password. Come io mi sono già registrazione, vado su accedi. Ok. Ok, una volta arrivati qua possiamo o importare dal computer, da Google Drive, da Dropbox, qua ci indicano anche i file supportati da MinDomo, oppure si va direttamente alla creazione. ok, ci richiede un titolo, ad esempio presentazione, i modelli possono essere quelli base, che sono questi qua, oppure possono essere più in dettaglio come l'educazione, ok, e o se no di affari business, ok, noi ci concentriamo su quelli base, ok, e perfetto. Arrivati qua noi abbiamo la possibilità di salvare, di fare una copia, di scaricare, di stampare, ok, come si procede alla creazione vera e propria della mappa. cliccando su questo si inserisce un argomento, ovvero il ramo principale, rischiacciandolo abbiamo un sotto argomento, ok. Se si vuole ripartire dalla presentazione, si clicca presentazione e si fa sul più, ok. Questi si possono spostare come si desiderano, ok. Questo qua ci permette di fare una relazione tra i due, ad esempio così, perfetto. E queste freccette ci permettono di disfare o rifare l'ultima azione compiuta. Qua abbiamo la scelta dei temi già predefiniti, come lo sfondo o diverse cose, oppure si possono fare e personalizzarli come si vuole. Qui invece in orizzontale abbiamo la possibilità di aggiungere delle note su questo argomento, di aggiungere dei link, dei collegamenti, o di aggiungere un multimedia, o di aggiungere un'icona, aggiungere informazioni task, aggiungere dei commenti, qua c'è un video di esercitazioni in caso, e un indombo bookmarks. Ok, una volta completato la mappa, si va qui, si salva e si è a posto. Ritornando all'ultima pagina, troviamo qua la nostra presentazione. Eccola qua, eccola qua. Bene, arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!